Sono iniziati ieri a Giarra i lavori di potatura al Parco degli Eroi e in via Manzoni, oltre che su alcune strade che circondano quest'area verde. Stamane, nello specifico, i giardinieri comunali, con l'ausilio di un mezzo meccanico con cestello, sono andati ad operare sui folti rami di alberi che straripano sulla sede stradale, causando peraltro notevoli danni ai residenti. Sono anni che il Parco degli Eroi necessita di potatura, pertanto i resti della potatura non sono di certo solo poche erbacce, ma sfalci corposi. L'area in questione è stata transennata per impedire il passaggio. Come si vede dalle immagini, gli scarti della scerbatura vengono depositati dentro uno scarrabile concesso dalla ditta che si occupa della raccolta rifiuti, che provvederà successivamente al conferimento in discarica. Un cospicuo impiego di forze per degli interventi di potatura che si erano resi oramai urgenti, in un parco di cui spesso si denuncia lo stato di degrado e di abbandono. Qualcuno dei residenti, assistendo ai lavori di scerbatura, lamenta un eccessivo declino della zona che sorge proprio nel cuore del centro storico giarrese. Un residente ci dice che nonostante in passato abbia raccolto più di 250 firme per lo spostamento dell'area di sgambamento posta all'interno del parco, nessuno dell'amministrazione comunale ha ascoltato le lamentele di chi vive di fronte al parco degli Eroi. Un tempo, importante polmone verde della città, oggi, a detta dei residenti, luogo degradato che offre rifugio ad extracomunitari, che hanno fatto del casotto che un tempo conteneva attrezzi di lavoro, un vero e proprio alloggio. L'area di sgambamento per cani, poi, secondo i residenti, dovrebbe sorgere in una zona più distante dal centro abitato, perché gli escrementi e gli odori degli animali inevitabilmente si diffondono per il quartiere, facendone una vera e propria fogna a cielo aperto. Infine, per i cittadini, la potatura degli alberi dovrebbe effettuarsi con maggiore frequenza, sia per una questione di decoro urbano. Un residente ci mostra, infatti, lo stratagemma che si è dovuto inventare con il coperchio di una pentola per evitare che i ratti che abitavano nella rigogliosa vegetazione del parco, attraverso il filo dell'elettricità, finissero direttamente a casa sua, che per una questione di sicurezza. Un altro residente ci mostra i danni che ha subito la sua automobile, allorché diversi mesi fa dei grossi rami vi sono caduti addosso. Insomma, felici finalmente degli interventi in corso, i cittadini chiedono però una più frequente cura del verde pubblico.